Matteo Salvini, punta alle elezioni tra un anno. Subito dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, lo scrive Marco Antonellis. Che nell'edizione odierna di Italia oggi dà conto di alcune voci autorevoli che arrivano dal fronte della Lega. Il segretario è descritto come, stretto a destra da Giorgia Meloni e a, sinistra idà Giancarlo Giorgetti. E questo spiegherebbe perché non stia propriamente tenendo il, profilo basso, che tanto piace a Mario Draghi. Ma d'altronde non fa parte dell'indole di Salvini. Che avverte l'esigenza di dover far sentire la sua presenza per un obiettivo che per Antonellis è molto chiaro. Quello di diventare premier quando la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo e quindi non ci sarà più bisogno del governo di, alto profilo, voluto da Sergio Mattarella e presieduto dall'ex presidente della BCE. Tra l'altro sempre secondo Italia oggi al segretario della Lega non dispiacerebbe se al Quirinale andasse proprio Mario Draghi. Ma non ditelo a Berlusconi aggiunge Antonellis con il quale c'era già stata una mezza promessa. Di, morire per Silvio però a Via Bellerio non ne hanno più voglia. Inoltre i fedelissimi hanno rivelato che Salvini si sta trovando bene con Draghi. Nonostante i metodi comunicativi agli antipodi. E non gli dispiacerebbe ritrovarselo nel ruolo di presidente della Repubblica. Anche perché, avere un buon rapporto con il Quirinale è fondamentale per le ambizioni future di Salvini. Vuole fortissimamente fare il presidente del Consiglio. Meglio se già tra un anno, conclude l'articolo.